Buondì, cerchiamo oggi di sviluppare alcuni concetti e di descrivere meglio le reazioni di sostituzione e di eliminazione, meglio, cerchiamo di entrare un po' nei dettagli. Ricapitoliamo solo quello che abbiamo già visto. Qui avete l'esempio della, qui viene mostrato in sintesi la reazione di eliminazione, vedete, e la reazione di sostituzione. Sono due reazioni che sono tra di loro competitive. Dopo lo scopo a cui noi vogliamo giungere, quale sarà? Illustrare e descrivere i parametri che influenzano, appunto, o l'una o l'altra, sempre che sia possibile. Allora, chiaramente, qui vedete, eliminazione, vedete che il nucleofilo, che cosa tende ad attaccare questo idrogeno, se si allontana, l'alogeno si stacca e si forma il doppio legame. Sostituzione, invece, il nucleofilo entra in pratica, sostituisce l'alogenuro. Queste sono le reazioni di sostituzione e di eliminazione. Vediamo adesso di entrare nel dettaglio, come abbiamo già visto, sono cose che abbiamo già visto. Se nel meccanismo E2, che cosa succede? Il nucleofilo attacca l'idrogeno. Notate anche, che dovete assolutamente imparare bene, che cosa è il formalismo delle frecce. Queste frecce che cosa simboleggiano? Simboleggiano il movimento degli elettroni. Qui stiamo lavorando con delle basi e degli acidi di Lewis. È chiaro? Quindi, acidi e base di Lewis significa mettere a disposizione delle coppie elettroniche. In particolare, il nucleofilo funziona come base di Lewis. E mette a disposizione, se preferite anche un altro punto di vista, quello del legame d'attivo, fate voi, il nucleofilo mette a sua disposizione la sua coppia e quindi questa freccia rappresenta la coppia del nucleofilo messa a disposizione di questo idrogeno. Così l'idrogeno si stacca, viene agganciato in questo modo dal nucleofilo, la coppia di legame che l'idrogeno aveva viene messa in comune tra i due atomi di carbonio e si forma il doppio legame. Naturalmente, oltre alla molecola, nucleofilo e idrogeno. Questo è il meccanismo E2. Ricordiamoci che sia il meccanismo E2 sia il meccanismo SN2 sono meccanismi concertati. Il processo avviene in simultanea. Simultanea vuol dire sgancio dell'idrogeno e allontanamento del gruppo uscente dell'allogenuro. Nel meccanismo E1, e quindi questo avviene anche se siamo con un meccanismo E2, lo vedremo attraverso un unico stadio. Nel meccanismo E1, esattamente come avviene anche nel meccanismo SN1, si stacca il gruppo uscente, cioè l'allogeno. Una volta che l'allogeno è staccato, che cosa succede? Si forma il carbocatione. Formatosi il carbocatione, automaticamente noi che cosa potremmo avere? Avremmo che il carbocatione può reagire in un secondo tempo. Se la reazione di eliminazione in un secondo tempo verrà allontanato l'idrogeno, se la reazione di sostituzione in un secondo tempo in questa posizione si aggancerà il nucleofilo e avremo la sostituzione. Notate qui il dettaglio della sostituzione che è importante. Quando voi avete il meccanismo SN2, che cosa succede? Avete che il nucleofilo entra mentre, abbiamo detto, l'allogeno si stacca. E questo che cosa implica? Che si formi in questo stato di transizione, l'atomo di carbonio in questo caso è il guidato SP2 e non può entrare il nucleofilo se non dalla parte opposta a quella dove esce l'allogeno 1. Se invece noi abbiamo la reazione di SN1, che cosa succede? L'allogeno esce, contemporaneamente, mentre l'allogeno esce e dopo che si è formato il carbocatione, abbiamo sempre l'ibridazione SP2, che cosa succede? Arriva il nuovo nucleofilo per agganciarsi e potrà agganciarsi sia da una parte che dall'altra. Quindi, se noi abbiamo da questa parte un carbonio, non è il caso questo perché abbiamo tre sostituenti tutti uguali, ma se noi avessimo tre sostituenti tutti diversi, sarebbe un carbonio chirale e automaticamente, a questo punto, potrebbe essere, come al solito, come abbiamo visto, ORS, OR, OE oppure S. Quando si forma il carbocatione, il nucleofilo può attaccare o a destra o a sinistra e quindi il risultato, che cosa sarà? Una miscela raciemica, cioè un po' di carbocatione, un po' di prodotti sostituiti con meccanismo un po' R e un po' S. Mentre, invece, abbiamo visto che, quando noi abbiamo il meccanismo SN2, che cosa succede? Abbiamo inversione di, avremmo avuto inversione di configurazione, perché, chiaramente, se questo si stacca, l'altro non può che uscire, quindi io immagino di avere un isomero ottico ben preciso, ORS, che cosa succede? Il nuovo nucleofilo non può che agganciare dalla parte opposta e quindi il risultato, che cosa sarà? Un nuovo composto, in cui, in linea di massima, possiamo dire che è avvenuta l'inversione di configurazione. Sarò passato da una configurazione R a una configurazione S. Salvo qualche piccola osservazione, dovuta all'ordine di priorità, ma in linea di massima, possiamo dire che vale questa regola. Vi ricordo, miscela vacemica vuol dire che noi abbiamo una miscela di tutte e due presenti contemporaneamente, sia l'isomero ottico R, sia l'isomero ottico S. Qui avete, chiaramente, il meccanismo SN1, che potrebbe avvenire in, come vi ho detto, in due stadi, ma lo stesso andamento energetico potrebbe valere per l'eliminazione. Come potete vedere, il processo in cui voi avete che l'energia di attivazione è più alta, è quel processo in cui si deve formare il carbocatione. Dopo che si è formato il carbocatione, può evolvere verso l'alcheneo, può evolvere verso un nuovo prodotto di sostituzione, una molecola, cui sia venuta la sostituzione decisamente in modo più veloce. perché vedete che nel secondo passaggio l'energia di attivazione è decisamente minore rispetto all'energia di attivazione della prima. Se noi, invece, abbiamo un processo SN2, che cosa succede? Il tutto avviene in un unico stadio e a metà strada, esattamente al massimo, a metà strada più o meno, quando si ha comunque il complesso attivato, noi che cosa abbiamo? tutti presenti contemporaneamente, sia l'alogenuro che sta uscendo, sia il nuovo nucleofilo che sta entrando. Questo, naturalmente, fa sì che noi abbiamo una differente andamento a seconda dell'alogenuro viene favorita un processo oppure l'altro. Ma, prima di analizzare questo, potete vedere qua chiaramente quello che vi stavo dicendo sulla miscela racemica. Qui avete un carbocatione, dopo che si è formato il carbocatione, il nuovo nucleofilo può entrare a destra e a sinistra. Notate, questo è un nucleofilo, lo vedremo subito abbastanza debole, però col carbocatione reagisce senza troppi problemi ed è necessario uno stadio successivo in cui il nucleofilo che è entrato perde il suo idrogeno per fare la sua molecola corretta. E' chiaro, è una molecola, tanto per intendersi, di un etere. L'etere è caratterizzato da due catene, qui la catena più piccola, mertili, come è sempre una catena, e una catena da una parte e una catena dall'altra, tenute assieme da un ossigeno intermedio. Come al solito, fate bene attenzione anche a questo secondo passaggio, al movimento delle cariche e al movimento delle frezze, quindi. Questi due elettroni vengono messi in comune, vengono, diciamo, donati tutti all'ossigeno, che così con questi due elettroni perde la sua carica positiva, l'idrogeno acquista la carica positiva, che viene, diciamo, sopportata dal fatto che questo idrogeno viene agganciato da un'altra molecola, probabilmente dissolvente, si forma la molecola dissolvente con uno ione H più legato e si ottiene qui il prodotto di sostituzione. Quindi, vedete, noi abbiamo avuto la sostituzione sia da un lato, sia dal lato opposto, e poi uno dei due, cioè qualsiasi uno, qualsiasi dei due, che cosa può evolvere verso la fase finale della molecola, perdendo questo idrogeno. Abbiamo visto, quindi, la dinamica dei due processi, abbiamo visto più di una volta, e noi che cosa possiamo dire? Che nel meccanismo che avviene con due stadi, quindi, in cui si forma il carbocatione, quello che conta è la stabilità del carbocatione, e quindi noi abbiamo che la reattività è dominata e facilitata, diciamo, dalla facilità con cui si forma il carbocatione, e il carbocatione si forma quanto più abbiamo un carbonio terziario, perché nel carbonio terziario, che cosa succede? Si realizza esattamente la possibilità di avere tre effetti induttivi che stabilizzano, invece, che stabilizzano, quindi, il carbocatione. Nel meccanismo, invece, SN1, abbiamo visto che il processo deve avvenire, devono essere tutti presenti contemporaneamente, tutti insieme appassionatamente. Abbiamo l'alogenuro che è il nucleofilo che entra, tutti assieme, presenti contemporaneamente, e nell'un nel complesso attivato, cioè in questo, e quindi, vedete, tutti assieme, presenti contemporaneamente, e quindi quello che domina, che cos'è? L'ingombro sterico, perché tutti possano stare insieme, bisogna che ci sia dello spazio, e lo spazio, come facciamo ad averlo, soprattutto se abbiamo un carbonio metilico, o un carbonio, invece, primario. Il carbonio secondario, quindi, vedete che il primario e il metilico reagiscono, se guardiamo il meccanismo di reazione e di sostituzione, essenzialmente con SN1, SN2, scusate, invece, il terziario reagisce, soprattutto, con meccanismo SN1. Il secondario è un po' ambiguo, può reagire sia con un meccanismo, sia con l'altro, e quindi il secondario da che cosa viene dominato? Viene dominato dagli altri, dagli altri parametri tipici della reazione, che vedremo, cioè, tipo dissolvente, temperatura, e via dicendo. Allora, cominciamo subito a notare una differenza, invece, che abbiamo visto, cioè una differenza tra il meccanismo di eliminazione e il meccanismo di sostituzione. Mentre abbiamo una differenziazione degli alogenuri terziari e degli alogenuri primari, quella è, quindi, una differenziazione che implica un differente meccanismo, la facilità di reazione, invece, verso l'eliminazione è la stessa, sia per il meccanismo E2, sia per il meccanismo E1. Cioè, noi abbiamo che la reazione che viene con più facilità è quella tipica degli alogenuri terziari, poi secondari e poi primari. Ovviamente, i metilici non possono dare eliminazione. per avere il reazione di eliminazione e formazione di doppio legame, il minimo, che cosa è? Avere due atomi di carbonio, se ne ho solo uno, chiaramente, l'eliminazione, se ne ho solo uno, quindi, una catena metilica, l'eliminazione, ovviamente, non può avvenire. Cominciamo subito, però, a dire una cosa particolare, e cioè che il meccanismo E1, è un meccanismo che si usa solo per alogenuri quando il meccanismo E1 avviene con alogenuri quando sono soluzioni a bassa concentrazione di base. Quasi sempre, quindi, negli altri casi, si parla di meccanismo E2. È chiaro? Quindi, ricordatevi questa differenza tra la sostituzione l'eliminazione. La sostituzione ha un comportamento opposto, a seconda del tipo di alogenuro, invece, l'eliminazione avviene per alogenuri nelle soluzioni, possiamo metterlo così, a bassa concentrazione di base. È chiaro? E siamo un po' più precisi. Abbiamo visto che prima di tutto perché c'è questa differenza, perché nella reazione di eliminazione l'aspetto importante è che cos'è? La stabilità dell'alchene e gli alcheni terziari, cioè gli alcheni che coinvolgono, che stanno in mezzo alla catena. È chiaro che cosa, quant'è che sono più stabili degli doppi legami, invece, che stanno sul bordo. Spero che questo sia ovvio. Invece, valutiamo la stabilità dei carbocationi, questo ci potrà essere utile. In un secondo tempo, vedete che i carbocationi terziari sono decisamente più stabili del secondario e i secondari del primario. Piccola osservazione, cosa sono i carbocationi allilici e benzilici che sono stabilizzati? Lo vedete bene. Allora, cominciamo subito a vedere l'allile che è la cosa più semplice. l'allile è questo carbocatione. Allora, l'idrogeno, cominciamo a dire che cosa è. L'idrogeno, quello disegnato in rosso, si chiama idrogeno vinilico ed è molto difficile da staccare, da sostituire e via dicendo. Invece, il carbonio che si trova vicino al doppio legame si chiama idrogeno allilico e se invece di esserci un idrogeno c'è una carica positiva si chiamerà carbocatione allilico. Perché è molto più stabile? Perché la presenza di un doppio legame stabilizza questo carbocatione? Perché è possibile disegnare anche solo con questo semplice molecole, è possibile disegnare due strutture che risuonano. Le due strutture sono state disegnate di sotto. Vedete che la risonanza è stata rappresentata con questa freccia con due punte. Come faccio a studiare le due strutture? Questo è il passaggio che dovete sapere mi sembra che nell'ultimo compito siate stati decisamente carenti in questo. Voi dovete scomporre il doppio legame in una carica positiva e in una carica negativa. Dove si mette la carica positiva e la carica negativa? Ma ha un po' d'intulto. Io devo legare qui questi due atomi di carbonio non posso legare se qui posiziono una carica positiva. Quindi qui posiziono la carica negativa. La carica positiva quindi sarà fissata sull'altro atomo di carbonio a questo punto formalizzo un doppio legame unendo il più e il meno e vedete che ho ottenuto la seconda struttura. Se il se il carvocatione è stabilizzato dalla presenza di un doppio legame vi lascio immaginare questo che sarebbe il carvocatione benzilico che è legato a un anello in cui ci sono ben vicini tre doppi legame l'effetto sarà ancora più intenso di stabilizzazione. Se abbiamo capito questo possiamo cominciare a vedere i parametri che servono per individuare cercare di capire il tipo di reattività. Uno dei parametri importanti che cosa è? l'efficacia la nucleoficità o se preferite la nucleofilia la forza del nucleofilo la forza del nucleofilo qui avete un elenco di alcuni nucleofili la loro forza viene classificata come debole medio e forte notate tutti i nucleofili forti anche medio forti sono quelli che hanno una carica negativa nucleofili deboli invece sono particariche molecole neutre e infatti abbiamo visto che quando si formava se il nucleofilo entra ed è una molecola neutra l'abbiamo visto solo poco fa che cosa succede è necessario un secondo meccanico un secondo stadio in cui l'idrogeno si stacca lo vedete bene dove 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 è? eccolo qua vedete questo si è il nucleofilo neutro si è agganciato si è formata la carica positiva ed è necessario questa seconda fase in cui si stacca anche questo idrogeno è chiaro? spero di sì allora quindi abbiamo visto la forza dei nucleofili quelli che hanno carica sono più forti dei nucleofili deboli valutiamo anche la forza la capacità di agire dei gruppi uscenti abbiamo dei gruppi uscenti oltre agli allogeni che abbiamo già visto potrebbero esserci questi gruppi uscenti e quindi entriamo non è solo la reattività che dà la sostituzione alla eliminazione non è solo con gli allogeni archivici ma con altre molecole tipo alcoli o derivati allora prima di tutto vedete che la capacità i gruppi che escono meglio possono chiaramente influenzare seriamente la reazione avete visto che i gruppi uscenti pessimi lo vedete che cosa fanno fanno sì che la reazione non avvenga di sostituzione o di eliminazione in pratica non avvenga se però si può avviare a questo osservate subito la reazione che è indicata sotto nella reazione che avete indicata sotto avete per esempio un alcol qui l'alcol abbiamo visto che è un gruppo uscente un pessimo gruppo uscente quindi la reazione non avverrebbe ma siamo in un ambiente acido in un ambiente acido questo OH viene trasformato in seguito vedete bene l'H dell'acido si aggancia all'OH come al solito non fate l'errore che capita spesso di disegnare H e fare una freccia che punta verso l'OH perché anche se è vero che l'idrogeno si sposta verso il gruppo H la freccia deve essere associata al movimento degli elettroni gli elettroni del gruppo H vengono messi in comune con questo idrogeno e partono dal gruppo H verso l'idrogeno e quindi la freccia deve essere messa in questo verso si forma un alcol protonato in questo modo l'OH si è trasformato in una molecola di acqua e vedete che la molecola di acqua è un gruppo uscente decisamente migliore del gruppo H è chiaro quindi a questo punto potrà riuscire dopo che si è formato il carbocatione potranno succedere altre cose come per esempio la sostituzione o eventualmente la eliminazione